Oh posso, posso, posso entrare, posso entrare, posso entrare Oh donna fietra, un'altra che voleva Allora, tienilo lì, tienilo lì, tienilo lì Non rifacciamo nulla, non rifacciamo Oh, tu ne spai, non li spai Nooo Travis L'ultra è stinto No, tranquillo, 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 ci sono io, ci sono io Sto spammando, sto spammando Spambo, spammbo, spammbo, spammbo L'ho ucciso Non c'è di che, ma non c'è di che, Jason, c'è di che Ah, io non mi spiro Pietro, ti ha dato le anime Che altro è successo? C'era una mappa, il persecutore, c'era, c'era la palestra, Giorgio ha iniziato a spammare la palestra, Pietro era di mezzo, il persecutore, dove cominci una volta, Pietro non muore, scatta la pancia, Giorgio non tirà a spammare, la freccia al visce Giorgio, Pietro, Pietro muore, Giorgio allo stesso tempo c'era il persecutore, mi sape Pietro non ha preso le anime Ho fatto la hip, ho fatto la hip Mi ricorda, mi ricorda come te, Jason, che Sì, è che a Godrick Vai, ora ti revo dal mondo, vai, boom, e non ho preso le anime No, questo è peggio, questo è peggio, grazie Ciao